Bene, ben ritrovati a questo nuovo video che è anche l'ultimissimo dedicato al corso script bash e come promesso questo ultimo video vediamo di commentare e rapidamente vedere come funziona l'esempio finale, ovvero lo script che si chiama appunto script bash finale del corso, nel quale come potete vedere in un codice decisamente più lungo che non gli spezzoni che abbiamo visto nelle varie lezioni ho cercato di inserire il più possibile di quanto abbiamo visto nelle varie lezioni appunto, tutti i vari comandi, gli esempi, grafica e non grafica, ho cercato di inserire il più possibile di tutto quanto. Adesso lo useremo questo script naturalmente, vedremo funzione per funzione cosa ho inserito, però avete qui un bel esempio con un po' tutto che raggruppa un po' tutte le funzionalità imparate nelle 17 lezioni precedenti. Ecco, vedete che ci sono le variabili per formattare i colori e la forma dei caratteri nel terminale, ci sono le tuple, varie tuple, ci sono le funzioni, soprattutto le funzioni, c'è anche, ho anche scusate, introdotto un parametro alla partenza dello script, quindi facendo partire lo script in un terminale si può anche mettere accanto al nome un parametro per farlo partire in un modo o nell'altro, anzi adesso apro un terminale per mostrarvi poi questa cosa. Ci sono i vari eco naturalmente, richieste di parametri, funzioni, gestione di menu, di opzioni, che poi adesso vedremo, formattazione di testo, c'è un po' di tutto, il case, comando case per smistare l'esecuzione, c'è, vediamo un po', sempre i case, ci sono i vari cut, comandi cut, sort, proprio un po' tutto quello che abbiamo visto durante tutto il corso, ho cercato di raggrupparlo in uno script che adesso ha un po' un senso compiuto al tutto, è con uno script che non è, penso, utile di per sé in quanto tale per le funzioni che fa, ma è utile per avere un modello dal quale partire, per cercare di, per, non per cercare, per creare degli script che veramente ci servano, questo è veramente didattico, riempito apposta con un po' di tutto, vedete c'è anche un loop for, ricorsività, for, do, c'è dentro un po' di tutto, la parte anche grafica, eccetera, eccetera, ecco. Allora, naturalmente siccome abbiamo seguito le lezioni, non è che sto a spiegare comando per comando cosa fanno, perché a questo punto lo sappiamo, non è vero, però una particolarità di questo script è che ho usato pesantemente le funzioni e anche la loro ricorsività, ovvero il fatto che una funzione può essere richiamata entro il codice di se stessa, una funzione può richiamare se stessa e tutto questo mi ha portato al risultato che in realtà lo script, il corpo principale dello script è ridotto praticamente a un comando solo, come vedete c'è tutto il commento che spiega, mi posiziono nella mia cartella dove ho lo script per farlo lavorare proprio lì, vedete, nella cartella sua corso bash, voi potete metterlo dove volete, quindi l'unica cosa che dovete fare per usare questo script nella vostra cartella è adeguare questo percorso, quindi apritelo, lo adeguate, lo salvate, siete a posto e poi tutto parte richiamando una prima funzione, da lì tutto si gioca tra una funzione e l'altra, che naturalmente abbiamo imparato che le funzioni vanno definite prima perché lo script bash viene interpretato da cima a fondo ed ecco che in realtà il corpo principale dello script è tutto qua, due comandi, un posizionamento in una cartella e il richiamo della prima funzione. Ecco, questa è un po' la particolarità di come è organizzato lo script che potete poi vedere per conto vostro facendolo scorrere, quindi giusto per dirvi che se iniziate a scorrere dall'inizio, incominciate a vedere tutte le definizioni di variabile, poi si inizia con una funzione, una funzione, una funzione, dove è il corpo principale dello script e in fondo in realtà, e poi tutto va di conseguenza. Ecco, questo è per quanto riguarda il codice dello script. Dicevo che ho introdotto anche proprio per esercizio e per modello la possibilità di indicare un parametro prima di far partire lo script, Quindi adesso io mi posiziono nella cartella, cartella che eccoci qua, sono nella cartella, facciamo partire il nostro corso script bash finale, eccolo qua, allora, facendolo partire in questo modo, dunque, piccola premessa, questo script, essendo un sunto di tutto il corso, è praticamente stato creato in doppio, se vogliamo, è uno script che ne raccoglie due, uno in modalità puramente terminale, cioè che si svolge solo dentro i confini del terminale, e l'altro puramente grafica, ovvero che usa il comando Zenity con tutti gli oggetti grafici, le finestre grafiche, praticamente fanno entrambe le parti la stessa cosa, anche questo può essere interessante per voi, avere un modello che presenti le stesse funzionalità, eseguite tutte con interfaccia caratteri, rispettivamente tutte con interfaccia grafica, e quindi cosa ho fatto? Ho sfruttato questo fatto di avere praticamente due script, due versioni dello stesso script in uno script solo, per introdurre anche l'esercizio del parametro davanti, del parametro da introdurre accanto al nome dello script per richiamarlo, quindi se non metto nulla e faccio partire lo script così, mi viene chiesto subito una cosa, desideri usare la versione con interfaccia caratteri nel terminale oppure quella con interfaccia grafica? Introduci T maiuscolo per il terminale, G maiuscolo per la grafica, e quindi se non metto nulla provvede comunque lo script a forzarmi a usare uno o l'altro, e se io metto un carattere errato, vedete che mi viene in rosso errore, devi scegliere un tipo di interfaccia valido e mi ripropone la domanda, e questo qui è la ricorsività delle funzioni, quindi non esco da qui, a meno che non interrompo lo script finché non ho scelto un tipo di interfaccia. Questa domanda, adesso interrompo lo script, questa domanda non mi viene posta se io metto già questo parametro a priori, quindi dico voglio usare l'interfaccia caratteri, metto la T maiuscola dopo il nome dello script, faccio enter, e vedete che parte lo script, non mi ripropone più la domanda perché lo sa già, ha letto il parametro e dice ok, vuoi usare l'interfaccia caratteri, quindi partiamo da questa, vedete che mi esce subito un avviso bello con la sua cornicetta rossa, questo script è stato creato per essere usato a tutto schermo, se non l'hai ancora fatto massimizza la finestra del tuo terminale, grazie, va beh, è anche gentile, tra parentesi, in grassetto ha sottolineato ctrl c per uscire dallo script ora, sappiamo che ctrl c per fermare gli script, oppure enter per continuare, ok quindi massimizziamo la finestra, ubbidiamo e facciamo enter, e voilà, siamo nel menu principale vedete qua in cima, menu principale del nostro script con la sua bella cornice, ci sono otto funzioni che ho programmato, sviluppato, e l'ultima x per uscire, quindi esci dal menu e termina questo script il primo è, passiamo velocemente magari alle funzionalità, potete poi scorrerle anche voi, però ne passiamo magari così giusto per mostrarvele magari un paio qui nel terminale, poi ve le mostro nell'interfaccia grafica anche le altre, quindi uno per esempio, dammi una data in cifre, in questa forma, giorno giorno, mese mese, anno anno per ottenerle in formato esteso, cosa vuol dire, come si usa questo menu, vedete qui in basso a destra c'è la frase, scegli un'opzione dal menu, e qui il cursore è qui pronto, qua, che aspetta un numero dall'1 all'8, quindi metto voglio l'opzione 1, ho scritto 1, vedete qua, e faccio enter per continuare e lui mi ripropone la domanda, ok, scelto la funzione 1, dammi la data in cifre, io la do dunque oggi per esempio il 23, punto 01, che è gennaio, punto 2013, enter, e vedete qui bello colorato, la data inserita è un mercoledì, è vero, di gennaio dell'anno 2013, giorno numero 23 della settimana numero 04, ecco qua, per esempio questa è una funzione carina che vi dà la data estesa, descritta per esteso, poi alla fine del suo lavoro mi dice digitare m, premere enter per tornare al menu principale, quindi devo mettere m, premo enter, ed ecco che ritorno al menu, se non avessi fatto così, torniamo dentro, vediamo la data, faccio solo enter, mi ripropone, cioè resto dentro in questa funzione, se voglio mettere un'altra data, per esempio 05, 05, 2012, che era un sabato di maggio del 2012, bla 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 bla, mentre io premo m e torno al mio menu principale. Poi ecco la seconda funzione è un wizard, ovvero una procedura passo passo, ecco questo sfrutta grandemente la ricorsività delle funzioni, cos'è un wizard, in questo caso non fa un granché, che spiega un po' il funzionamento dell'interfaccia Unity di Ubuntu, quindi sono delle schermate, vedete, wizard esplicativo sul funzionamento base dell'interfaccia di Ubuntu, è semplicemente del testo, però volevo dimostrarvi che si può navigare avanti e indietro in questo tipo di interfaccia. Ecco, vedete, qui in basso a destra c'è enter, oppure A per andare avanti, M per tornare al menu principale, perché è il primo passo, non posso andare indietro in questo wizard se non ho niente, quindi faccio enter per andare avanti e comincio a spiegarmi il launcher di Unity, qui non stiamo a leggere, comunque vedete che qui sotto in basso a destra c'è di nuovo avanti per il prossimo passo, I è apparso per indietro, M per menu, se premo I torno dove ero prima, faccio avanti, torno qua, faccio avanti di nuovo, nuovo passo, faccio I, torno indietro, quindi qui per mostrarvi che si possono gestire anche delle procedure guidate avanti e indietro grazie alla ricorsività delle funzioni che stanno dietro, faccio M per interrompere il wizard e tornare indietro. Poi vabbè il 3, mostro un elenco di file in una cartella, il 4 richiama la calcolatrice che è quello che avevo già fatto vedere all'inizio del corso e faccio 4, qui mi dice semplicemente che ha richiamato la calcolatrice, la calcolatrice appare, finché è aperta la calcolatrice lo script dietro aspetta, appena la chiudo mi dice enter per tornare al menu, questo per vedere che si può interagire anche con i programmi esistenti del sistema, poi il 5 permette di scrivere in un file, il 6 permette di leggere un file, questi potete provarli voi, se no non finiamo più, semplicemente delle funzioni dimostrative. Il 7, informazioni sul presente sistema Ubuntu, faccio 7 e lui mi mostra, vedete i dettagli sulla CPU, il processore, che tipo di processore ho, è un dual core, 64 bit eccetera eccetera, questi qui sono dati di un comando che potete andare a vedere dietro nel codice, un comando che vi mostra a terminale queste opzioni, enter in fondo per continuare e qui poi ci mostra i dettagli sulle componenti hardware del PC, quindi paginare con le frecce della tastiera o i tasti pagina su pagina giù, uscire col tasto Q, facciamo enter per far partire questa cosa, vedete qui ci dà tutti i dettagli del sistema hardware, quindi qui voi ovviamente quando eseguirete questo script sul vostro PC, questo non è testo commesso io fisso ma cambierà questo testo a seconda del vostro sistema PC naturalmente, ecco qui c'è stato detto di uscire col tasto Q, premo Q, voilà, elenco connessioni USB e periferiche collegate, voilà, e la user connessa, vedete utente connesso sono io, il tipo di sistema è Linux, bla 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 bla, kernel 3.2, 64 bit eccetera, dettagli, ecco vedete tutto questo giro passo passo per mostrarvi tutti i dettagli del vostro sistema, dinamico, questo qui vale appunto sul vostro sistema con i vostri dati, poi l'8 che magari è carino, quanti sono e quanto distano i pianeti dal nostro Sole, del nostro sistema solare, quindi facciamo 8, vedete che viene fuori una bella tabellina, qui dice in evidenza che i pianeti del sistema solare sono 8, qui spiega come leggere la tabellina e qui pianeta e distanza, bello ordinato, enter per tornare al menu, ecco questo è il nostro script nella forma a interfaccia carattere, che vedete che è un po' formattata, un po' colorata, non è per niente da disprezzare anche se non è grafica, ecco, quindi poi uso la X per uscire dal nostro script, e voilà, e alla fine ho inserito anche il grazie per aver usato lo script come notifica di Unity. Quindi avete visto che è un bel esercizio, è un bel esempio da avere a disposizione. Vediamo ancora rapidamente la modalità grafica di questo script che poi ripresenta le stesse funzionalità, però con gli oggetti grafici del comando Zenity. Facciamo partire il nostro script questa volta dalla dash di Unity perché lì l'ho impostato per partire appunto graficamente, quindi posso chiudere il mio terminale, richiamo la mia dash, ecco qua, corso script bash GUI, cioè con l'interfaccia grafica, un bel clic, ed eccolo qua. Questo è esattamente questo script però nella modalità grafica, come ha fatto partire nella modalità grafica? Nel lanciatore, questo, dietro questo lanciatore desktop, file desktop, ho messo appunto il richiamo dello script con già il parametro G per farlo partire con l'interfaccia grafica direttamente. Qui presenta le stesse otto opzioni del menu principale della versione a terminale, non c'è la X per uscire perché qui corrisponde alla nulla, quindi si termina con la nulla, se no si fa ok per andare ad eseguire una di queste funzionalità. Se faccio ok senza scegliere, lui mi dice errore, devi fare clic su una delle funzionalità e selezionarla per poterla eseguire. Allora ci fa tornare al menu, anche qui vedete ricorsività avanti e indietro fra i vari messaggi e menu. Riproviamo la data, facciamo clic su una delle funzioni, con il radio button qui, con il cecchettino, e quindi inserisce una data praticamente identica, tanto che qui ho già messo un valore per difetto che è la data corrente, ve la rappresenta già scritta, potete semplicemente fare ok e poi vi presenta la data estesa, né più né meno che a terminale, vedete? La stessa cosa, con un dialogo di informazione, di testo. Poi torna al menu naturalmente, finita una funzionalità, ritorna al menu. Funzione praticamente, specularmente come quello a terminale. Poi il wizard esplicativo di Unity, è la stessa cosa, vi presenta del testo che non è modificabile, è selezionabile ma non si può scriverci perché è fisso, quindi si può fare avanti con i pulsanti personalizzati, o si torna al menu, si fa avanti, qui c'è avanti e indietro perché possiamo anche tornare indietro, avanti, 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 e il menu alla fine c'è il menu perché è finito il wizard, vedete? Anche qui si può fare avanti e indietro, eccetera, eccetera. Elenca i file di una cartella, prima non l'ho mostrato, vabbè lo mostriamo qui, siamo nella cartella corrente, vedete che elenca della nostra cartella del corso i file, semplicemente elenca i file. Nulla per tornare. Lettura e scrittura di un file, non stiamo qui a perder tempo, potete provarlo voi, vi esce un dialogo dove potete scriverci dentro. Informazioni sul presente sistema di Ubuntu, anche qui, quello che abbiamo visto, vedete qui il tipo di CPU, se andiamo avanti ci mostra il dettaglio del sistema, proprio esattamente identico, faccio annulla, qui non succede niente, annulla ok, semplicemente avanti e avanti, come nell'interfaccia caratteri, qui dobbiamo andare fino in fondo, non ho previsto di andare avanti e indietro, alla fine ci dice che sono io che sono connesso, il mio sistema è questo, e poi si torna al menu principale. I pianeti, anche loro, guardiamo le anche qui, che sono sempre carini, qui ho fatto in modo di replicare esattamente la disposizione, come per l'interfaccia caratteri, col stesso tipo di tabellina, quindi semplicemente replicata in una finestra grafica, se facciamo ok, ci mostra un altro modo, più consono alla grafica, diciamo così, di mostrarci i pianeti, ecco c'è una tabellina sotto a due colonne, i pianeti sono 8 in grassetto, milioni di chilometri in grassetto, e qui vedete i pianeti ordinati per distanza dal sole. e il vantaggio oltretutto qui è che possiamo anche cambiare l'ordine, cliccando sull'intestazione delle due colonne vedete che possiamo cambiare l'ordine alfabetico dei pianeti, per esempio, ecco, facciamo ok, torniamo al menu, facciamo annulla, si esce, ecco, e di nuovo la notifica, ecco, quindi cosa dirvi di più niente, se avete avuto piacere, interesse a seguire questo corso, se vi è stuzzicato dire ma guarda che posso anch'io programmarmi qualcosa, qui avete un bel esempio finale, che è molto esteso anche perché ho messo molto scritto in menu, e quindi gli eco, i comandi eco occupano parecchio righe di codice, ma in sé non è tantissimissimo proprio il codice vero e proprio, sono molti comandi eco per i vari menu, i vari testi, per la parte grafica, eccetera, eccetera. Ecco, direi che con questo possiamo concludere, spero felicemente concludere tutta questa faticaccia di ben 18 video, per spiegarvi le basi della programmazione e le basi degli script bash, che possono sempre tornare utili per qualsiasi operazione ripetitiva nel vostro sistema, o meno ripetitiva, o che vi fa piacere creare, e con questo vi do appuntamento a un prossimo video, che sicuramente prima o poi ci sarà, non è detto che sia una nuova serie come questa, o non subito, può essere che torniamo alla produzione di video puntuali su un tema specifico, comunque sicuramente ci risentiremo, o ci rivedremo. Un saluto a tutti, un ringraziamento per il vostro interesse, la vostra gentilezza, ciao ciao!